Come è stato il caso che mi ha riguardato personalmente? L'attacco frontale a servitori dello Stato, adesso la tragedia degli immigrati a Rosarno e nella piana di Gioia Tauro. C'è una strana commistione in questa vicenda, abbiamo contro gli immigrati l'andrangheta da un lato ed il governo che tende appunto a reprimere persone che vengono considerate criminali solo perché clandestine. Questo è un altro tema importante, com'è che fino adesso il governo non si è accorto di come gli immigrati vengano sfruttati dal crimine organizzato, dall'andrangheta, quali siano gli intrecci che ruotano attorno allo sfruttamento del lavoro menero. Persone che sono costrette a lavorare per pochi euro al giorno, lavori che gli italiani non vogliono fare e che diventano manovalanza anche per il crimine organizzato. Io non credo assolutamente che questo governo voglia contrastare il vero crimine organizzato, quello che attiene ai rapporti tra la mafia e la politica, tra la mafia e i colletti bianchi, l'infiltrazione del crimine organizzato nelle istituzioni, la utilizza la spada di latte, il pugno di ferro nei confronti degli immigrati. Questi sono quei momenti dove si vuol far vedere che si contrasta il crimine ma in realtà non è così, si vuole fare un po' di pulizia etnica e non affrontare veramente lo snodo dei veri problemi in Calabria, che sono quello anche del traffico degli esseri umani, cioè immigrati che vengono sfruttati da una commissione di altri immigrati e il crimine organizzato. Così non si vuole affrontare la tematica del controllo illecito della spesa pubblica, degli intrecci tra politica e prenditori di soldi pubblici, non si vuole affrontare lo snodo del governo della spesa pubblica, il condizionamento del mercato del lavoro e l'inquinamento del voto. Quindi è un'occasione per distogliere anche l'attenzione da quello che è il vero problema della lotta all'andrangheta. Ecco perché gli immigrati non vanno trattati come residui sociali, come scarti da smaltire come se fossero dei rifiuti. È una vera e propria emergenza nazionale che non va trattata in modo propagandistico, come ha fatto il governo nella legge Bossi-Fini, ha fatto la Lega in particolare, prendendo voti ma non risolvendo, come la vicenda di Rosarno testimonia, alcuna vera questione che attiene al dramma di queste persone che migrano dall'Africa per scappare alla sete, alla fame e a stati autoritari.